Buongiorno amici di Telebelluni e benvenuti a questa puntata di novembre di Setteville e Segusino parole e immagini dal Basso Feltrino, il mensile di informazione dei comuni di Elano di Piave, Querovas e Segusino. Diamo subito la linea a Petra Mondin per i servizi dell'anno di Piave e Querovas. A te Petra. Grazie Anna, mi trovo in piazza Martiri ad Allano di Piave insieme al vicepresidente della Proloco di Alano, Alex Gallina, assieme al quale vediamo alcune immagini della festa del ringraziamento agricolo Basso Feltrino. Con l'obiettivo di vivacizzare la tradizionale fiera d'autunno che nelle recenti edizioni stava portando in paese sempre meno bancarelle e conseguentemente meno pubblico, l'amministrazione comunale di Alano di Piave e la sezione Basso Feltrina della Coldiretti hanno scelto la seconda domenica di ottobre, giornata nella quale si svolge la fiera, per organizzare anche l'annuale giornata del ringraziamento agricolo. Oltre 30 attrattori ci sono quelli che fanno i mistieri di un tempo, ci sono dei boscaioli che fanno delle sculture. Devo ringraziare tutti i Coldiretti e in particolare due ragazzini che la settimana scorsa sono venuti, si sono impegnati, si sono prodigati a correre, a cercare tutti quelli che avevano attrattori, vestiame e quant'altro. Le associazioni hanno bisogno di giovane, di gente giovane che ha la passione e la voglia per tutto il nostro territorio. Ci siamo preparati tutta la settimana precedente nella preparazione della festa e nell'organizzazione e nel chiamare i proprietari dei trattori qui intorno. È stato un anno molto critico questo per la siccità che ha colpito quest'estate molto duramente perché non ha mai piovuto. A livello di fieno abbiamo perso un taglio quasi, invece a livello di ortaggi sono stati molto scarsi nella produzione e nella crescita. Poi abbiamo avuto anche problema nelle malghe che le cose si sono asciugate e quindi le vacche non avevano acqua, bisognava portarne e quella poca acqua che c'era era avvelenata per le vacche perché era sporca, se la bevevano poteva star male. Nonostante queste difficoltà che fanno parte delle normali variazioni temporali delle condizioni climatiche, gli agricoltori hanno ringraziato il Signore per la buona salute dei loro capi di bestiame e per i prodotti della terra che anche quest'anno è stato permesso loro di raccogliere. Durante la mattinata il pubblico è progressivamente aumentato riempiendo Piazza Martiri, dove c'era la festa del ringraziamento e via Guglielmo Marconi, dove erano disposte le bancarelle che componevano la fiera. Alex, dopo il giro delle fontane e la festa del ringraziamento agricolo, qual è la prossima proposta della Proloco di Alano? La prossima proposta è Veneto Misteri per sabato 5 novembre. Il ritrovo è previsto per le ore 18 e 30 qui in piazza di fronte al municipio e questa sarà l'undicesima edizione e quindi comunque le edizioni cominciano ad essere tante e nel corso degli anni hanno visto anche la partecipazione di tante persone. L'anno scorso sono state all'incirca 130 e quest'anno appunto è l'undicesima edizione di un progetto della Regione Veneto che ha come scopo quello di far sì che le varie storie, le leggende dei luoghi della Regione Veneto vengano mantenute nel corso del tempo e va ricordato appunto come nel corso delle varie edizioni sono stati percorsi vari itinerari all'interno di questo comune e quest'anno il luogo di arrivo è la località Cortes. Ci sarà la possibilità di vedere uno spettacolo rivolto ai grandi ma soprattutto ai più piccoli e poi di degustare dei prodotti tipici locali di una volta. Per iscrizioni e informazioni si trovano tutte le informazioni sul volantino che è esposto nelle varie bacchiche comunali e nonno. E dopo aver attraversato il Piave ci trasferiamo a Vass dove fra pochi giorni si celebrerà la ricorrenza in onore di San Leonardo patrono dell'ex comune di Vass. Ed eccoci a Vass all'interno dei locali della cartiera a fianco a questo storico torchio tipografico che è simbolo proprio della cartiera. Qui con me il presidente dell'associazione La Carta Ivan Daltoè, associazione che ha deciso quest'anno di ripristinare la tradizionale festa di San Leonardo patrono dell'ex comune di Vass. Perché l'associazione si è presa a carico appunto di riproporre questo evento? Ma innanzitutto la festa di San Leonardo storicamente è stata una delle feste più antiche che si tenevano nel territorio del Basso Feltrino e quindi aveva una tradizione molto importante. Noi come associazione culturale che ci proponiamo di valorizzare diciamo il territorio già da qualche anno c'eravamo posti l'obiettivo di riprendere diciamo questa iniziativa di fare una festa. E quindi è nata un'edizione zero. Come sappiamo tutti la memoria storica dei paesi sta andando un po' scomparendo e noi come associazione ci proponiamo fra le cose anche quella di mantenere e valorizzare l'identità. Il sito stesso che ci ospita ha un'importanza storica direi decisiva non solo nella storia della carta italiana ma anche per la memoria stessa di questo paese. E quale sarà il programma dell'evento? Venerdì sera ci sarà l'inaugurazione di una mostra che è una mostra particolare perché nasce in relazione ad un workshop di fotografia che si è tenuta proprio qui in cartiera un mesetto fa a cui farà seguito una porchetta quindi piatto di porchetta con ci sono i caneva sound che fanno musica dal vivo con un repertorio a 360 gradi che fa contenti un po' tutti diciamo. Il sabato proprio nella filosofia che vuole avere questa festa ci sarà una vetrina sul territorio quindi ci sono due importanti aziende del territorio che sono la distilleria Le Crode di Caorera e l'azienda Biasiotto dei vini Biasiotto apriranno la propria azienda domenica è un po' il cuore diciamo così della festa. Per l'occasione andremo a inaugurare una struttura sempre legata alla guerra che ospitiamo ormai da qualche anno qui in cartiera. Si tratta della Diche Alata che era un'antica divinità diciamo che risale ai tempi della Grecia antica che da sempre onora le vittorie in battaglia. A seguire ci sarà il pranzo, il pranzo di San Leonardo e all'interno di questa giornata si articoleranno altre attività. Faremo anche una dimostrazione di carta a mano per chi è interessato faremo vedere come produciamo della carta a mano con metodo antico e potrà anche provare a fare un foglio a mano quindi chi vuole venire può provare a fare un foglio a mano e poi avrà diciamo l'omaggio a questo foglio in cui potrà anche stampare un'antica filigrana in cui già dal 600 la carta di Vass partiva alla volta di Venezia per andare poi diciamo a conquistare diciamo così commercialmente tutto il mondo. E poi la festa si chiude anche con un altro momento così molto tradizionale che è la castagnata con il vino nuovo anche qui in collaborazione con gli alpini di Vass ci saranno le castagne e con il mosto del vino di quest'anno si chiude così la festa. Ed ora andiamo a vedere un interessante appuntamento che si sta svolgendo a Vass proprio in questi giorni. È Halloween e siamo entrati proprio nel salone delle streghe. Ciao sono Strega Thea. Oggi vi provvedo il destino dei capelli della Sandra. Vediamo a cosa riserva il futuro. Procediamo. Prevediamo capelli curati con tanto amore. E dopo questa simpatica presentazione vediamo il vero motivo per cui siamo qui. È Halloween e il Salone Semplicemente Belli di Thea sta festeggiando il suo sesso anniversario dall'apertura. Thea come sono andati questi sei anni? Questi sei anni sono passati velocemente, bene, a parte Covid per tutti quanti che ci ha messo dura prova. Abbiamo fatto anche un po' di cambiamenti così la gente, i clienti si sentono meglio, più soddisfatti, che non ci pensano tutto questo casino. Abbiamo cambiato il pavimento del negozio, abbiamo fatto anche un dipinto di Aldo Reboli e in più abbiamo preso anche del poltrone massaggiante che la Jessica si sta rilassando. Siamo con Sandra che è una delle clienti storiche del Salone. Beh, mi trovo bene e devo dire che oltre una piega, prima Thea cura molto la cura del capello. Valentina, come ti trovi qui con Thea? Devo dire che mi trovo bene, è un salone molto solare, molto accogliente. Abbiamo anche questo poltrone con il massaggio e molto anche comodo, insomma. Penso che Jessica appunto ce lo possa confermare. È bravissima, secondo me è la parrucchiera migliore del mondo. E anche per questa puntata dall'Unione Setteville è tutto, restituisco la linea ad Anna. A te Anna. Grazie Petra. Ed ora vi parliamo della 117esima edizione della Fiera Franca del Rosario di Segusino e Scortivando. Vediamo. Un grande successo, quello della 117esima Fiera Franca del Rosario di Segusino, che si è svolta domenica 30 ottobre 2022, abbinata a Scortivando, l'allegra passeggiata per i cortili del paese alla scoperta dei prodotti locali e dei vari esercizi di ristorazione e bar. La fiera ritorna anche quest'anno, ovviamente mantenendo il tema dell'agricoltura, quindi con i vari intrattenimenti, sfilata di trattori, animali, eccetera, però in versione Scortivando, come l'avevamo proposta l'anno scorso. Devo dire che ha avuto successo anche quest'anno, perché abbiamo completato i posti che erano disponibili e devo dire che sì, la gente la vedo contenta e comunque entusiasta. Intanto è una bella giornata, perché comunque devo dire che è una giornata calda per essere ottobre. Gli scopi di Scortivando sono sicuramente che si incontrano il cliente e il produttore, perché vedere il cliente che arriva direttamente a casa tua a assaggiare il tuo prodotto, sì, è una bella cosa, insomma, ti rende soddisfatto del tuo lavoro. Vedi che ti fanno domande sul prodotto, sono interessati, e poi comunque dopo averlo assaggiato vogliono anche acquistare il tuo prodotto, quindi è una cosa che aiuta tutti i produttori del paese. C'è anche una messa in prova dell'ospitalità, devi accogliere comunque tutti, sì, con serenità, col sorriso, devi farli sentire a casa loro, perché alla fine vengono da te come in festa, devi saper, sì, starli dietro, se ti fanno domande così devi cocolarli, insomma. La carica degli 800 è stata definita scortivando, perché oltre 800 erano le persone iscritte al tour no gastronomico, sommando poi le migliaia di persone che hanno visitato il chilometro espositivo di circa 120 bancarelle del mercatino, per lo più di hobbisti ed artigianato. L'importanza sicuramente per una buona riuscita di una festa, qualsiasi festa sia, è la forza lavoro dei volontari, quelli che abbiamo in proloco, ci sono quelli che ci sono da anni, ci sono quelli che è la prima volta che provano quest'anno, c'è una ruota che gira. Io approfitto per chiedere che chi volesse entrare in proloco, perché c'è comunque sempre bisogno, chi ha più di 14 anni ha voglia di fare, o comunque di imparare, perché c'è da imparare, perché ci sono varie mansioni, come la cucina, il bar, il servizio in tavola, c'è molto da imparare, quindi invito a tutti di venire. Oltre all'evento principale del mercatino, Escortivando, ci sono stati poi altri eventi collegati, come la conferenza dell'associazione ambientalista Ubiquam, in Sala Zancaner, il tractor raduno per le vie del paese, il giro con i poni, in collaborazione con la scuola di equitazione Rigai, e spettacoli per bambini. La giornata è infine terminata in piazza con musica e concerti. La cosa bella, specialmente, beh sì, in tutte le edizioni ho visto una collaborazione delle varie associazioni, abbiamo anche gli alpini oggi che abbiamo fatto lo spiedo, e altre associazioni, quali le camminate, le corse, cioè è molto bello questa collaborazione, e spero che comunque, adesso Escortivando era nato per il discorso del Covid, spero che il prossimo anno ritorneremo, ma quasi sicuramente alla versione originale della fiera, e niente, comunque è stata un'occasione per gestire una cosa nuova, e sicuramente ci ha migliorato nell'organizzare, insomma. Ricchi anche i prossimi eventi a Segusino, che tra l'altro, fra pochi più di un mese, vedrà anche l'apertura del grande presepio artistico e dei presepi nei borghi. Oltre alla fiera del Rosario, comunque più avanti avremo altre manifestazioni, adesso la più recente sarà, sì, la prossima sarà i mercatini di Natale, il 20 novembre, e quindi anche lì avremo, ci sarà un mercatino chilometrico, e più avanti poi in primavera avremo altre fiere, quali la festa del Narciso, la corsa andare e tornare dal Do, che insomma, chi vuole, può trovare molta varietà di intrattenimenti e di feste, insomma. Setteville e Segusino, parole e immagini dal Basso Feltrino, il mensile di informazione dei comuni dell'anno di Piave, Querovas e Segusino, va in onda su Telebelluno ogni primo giovedì del mese all'ore 18.50 e 21.50, e ogni primo venerdì del mese all'ore 7.30 e 13.30, seguito poi da altre repliche il terzo giovedì e venerdì del mese, sempre agli stessi orari. Tutte le informazioni le trovate sulla nostra pagina Facebook. E per questa puntetta di novembre è tutto, ci vediamo a dicembre. Ciao! Big Bang! Sul viso reggi il mio passato come Dorian, portami dove vuoi. Let's talk this over, let's make some plans, cause I think I've had enough of just being friends. Equals love.